Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Inizio l'essenza di questo titolo, per quanto secondo me abbia molti aspetti da nascondere, un po' come nascondeva aspetti inscription, quindi cambi notevoli di gameplay, quindi che cos'è? E' una sorta di Souls-like, ma fuori di testa. Iniziamolo dall'inizio. Ci dice la luminosità, non alzarla troppo, non serve che tu vedi i cadaveri, vabbè, si alza un po', ma noi la lasciamo così com'è. Restare i tutoriali introduttivi? Sì, e così a meno ce lo giochiamo. Gamepad consigliato, adesso vediamo perché non mi ricordo più. Ok, allora, l'errore mancante, in pratica manca il nome, quindi mettiamo indie. Il colore della pelle, questo è un elemento molto utile, infatti vedete, cambia notevolmente, no? Come anche la corporatura. L'età è molto importante, vedete come invecchia il nostro omino, no? Gli accessori, guardate quanti ce ne sono, i tatuaggi, l'ampiezza del naso, lo stile degli occhi, l'ampiezza della mascella, il talento che è tantissimo, l'acconciatura che lo voglio fare senza acconciatura, ovviamente non è cambiato niente. Allora, il gioco è basato, da quanto ho capito, sulla programmazione, nel senso che c'è il datadino, c'è il formatore, c'è il risoluzionario, c'è il codice mante e c'è il casualadro. Casualadro. E i valori sono l'obustezza, vigore, carico, equipaggiamento, forza, l'estezza, codice e fortuna. Faccio il datadino, così abbiamo anche uno scudo. Abbiamo confermato la nostra natura e iniziamo a giocare. Inizio classico dei Souls. Il suo nome è Nostalgaia. Il narratore è fuori di testa. Aspetta, aspetta, taglia. Niente introduzione epica. Sembra un po' il narratore di Stanley Parable. Anzi, me lo ha ricordato tantissimo. E queste sono le cose geniali che io apprezzo di un gioco. Perché, vedete, a volte sembra che sia una limitazione grafica quello dello stile grafico. Ma in realtà no, perché ogni tanto esce dalla grafica stupenda, è fatta apposta. Avesse conosciuto la dignità, avrebbe fatto arricchieri con le sue stesse estremità. Va bene, vedete? Cioè, graficamente è bellissima. È l'omino che è fatto volutamente così. Ma poi vi cambierà perché vi metterete le armature addosso. Vabbè, non rinunciamo. Welcome. Non c'era comitato di benvenuto. Nessuno che dicesse al nuovo arrivato cosa fare o cosa fosse. Si colpisce, si parla. Ah, qua mi son curato. E sono un bambu perché ho già usato tutte le cure accidentalmente. Sbagliando con... Allora, qua vedete, leggi messaggi. Tasto sinistro del mouse, attacco leggero. Tasto destro, attacco pesante. Mentre, tasto destro, scudo. Scusami, ma qua non mi diceva che era... Ah, più maiuscolo, attacco pesante, ok. Scudo, spazio schivata. Classico. Siamo con te, abbiamo già percorso questa strada. Perfetto. Tornata dove sei venuto. Eroi, ti amo. Bellissimo. Qua è uguale sia da un'estremità all'altra. Nostalgaia era diventata poco accogliente con i nuovi eroi. E con chi li aiutava? F aggancia. Ok. Vedete che abbiamo possibilità di andargli alle spalle. Q. Usa la tua icona eroica e guarisce. All'inizio ti usi disponibile e viene caricata. Quando arrivi al checkpoint, usala con Q. Sì, l'ho già buttata via per sbaglio. Premendo Q per sbaglio, quindi... Vedete che sono anche bidimensionali pure loro. Oh, aiuto, male. Molto male. Molto male. Eh, perché non lo aggancio, mannaggia. Sbaglio. Non agganciandolo. Cambio posizione. Ah, posso attaccare con due mani. Sì, questa è. L'aspirante iniziò a sospettare che forse non era molto amato. Bellissimo. Cioè, poi tecnicamente è una meraviglia. Ma c'è qualcuno che li dieta, mannaggia a te. Ui ui ui. Eh, scusate, ma mi prendo una cura perché ho finito le cure. Il confuso Mino stilizzato non avrebbe trovato risposte nella biblioteca del narratore. La pixelizzazione aveva trasformato tutto e tutti in un guazzabuglio retro. Mamma, mi ero schivato per bontà divina. Via, via, via. Allora, ok, con F di targhetto. E ce n'è ancora uno. Mi ha ammazzato. Mi ha ammazzato. E così l'Omino stilizzato provò la sua innettitudine. No, devo usare lo scudo. È certificato. Carica personaggio.exe. Che sfacciataggine. Vabbè, ricominciamo da capo. Vedendo di non usare. Se uso questo mi fa l'attacco più profondo. Perfetto. Cioè, guardate com'è fatto il tavolo. È fatto benissimo rispetto al mio personaggio. Vabbè, intanto qua sappiamo già come funziona. Quindi, lasciamo all'alta. E vediamo cosa riusciamo a fare. Ci sono cose in alto da prendere, forse? Che è quello. Ok. Il gioco costa 24,99€ ed è uscito già in italiano. Devo targettare i nemici io però. Perché se no... Oh, mi ha preso. No, non mi ha preso. Ok. Questa volta siamo arrivati qua senza troppi problemi. Abbiamo il nostro corpo precedente che dobbiamo recuperare pian piano. Quindi targetto. Arrivo qui. Mi faccio colpire almeno una volta. Così li colpisco tutti in ensemble. Perfetto. Recuperiamo i nostri punti che vedete in alto a destra in quella grafica molto retaro. Recupera la memoria. Ok, abbiamo preso anche le anime di prima. Le rune, insomma, che dir si voglia. La memoria di Nostalgaia si era appiattita come un libro senza pagine. Un lutto immenso per il narratore. Il problema erano i pixel. Si può salire? No, si può salire. Non si può salire. Si può camminare ma non correre perché stiamo già ufficialmente correndo. Vediamo un attimo dove dobbiamo andare. Non mi ricordo se siamo arrivati da lì o da là ma vediamo. Lo vediamo subito. Perché qua abbiamo demolito tutto e da dove eravamo prima. Ok. Perfetto. Bisogna andare dall'altra parte. Che è là dietro. Ah, ecco qua. E c'era il tutorial che diceva di prendere la cosa silenziosamente ma onestamente non mi ricordo come si fa a mettersi furtivi. Quindi va bene. Stiamo andando alla grandissima. voglio colpirti con il colpo pesante che ci mette un botto di tempo comunque uh lolo 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 che male. Perfetto. Eh, la stamina è da tenere in considerazione anche con la barra gialla in alto a sinistra. Cos'era questo bizzarro omino stilizzato? Era cosciente di quanto stesse regredendo? Certo che no. Ha fatto lo stesso oh, vabbè. Beh, ci sono questi che non fanno niente però qui le casse vedete che si sono viste per un momento in 2D. Raccogli accesso poi hai appena raccolto un oggetto premie per continuare ok ho raccolto un oggetto che che potremmo poi andare a vedere in equipaggiamento ok abbiamo l'inventario con tutte le gli oggetti i danni infilitti alle armi nostalgari aumentano proporzionalmente a forza le stazze codice premie per vedere più dettagli i danni sono sempre non sono sempre la cosa più importante però per esempio alcune armi sono più veloci di altre certo certo bisogna sperimentare tutti perfetto e qua abbiamo i parametri del giocatore con i nostri livelli la memoria richiesta è praticamente una parodia dei souls anche il menu che rimane in alto mentre ci muoviamo uguale stessa cosa recuperiamo anche qua erbe verdi che sono utilissime per la cura si sale di sopra buon uomo questo faceva il doppio attacco per fortuna il lanatore decise di fare delle modifiche alla storia bisogna sempre targettare raccogli il pugnale dei cicli va bene allora d'un tratto l'eroe fu colto di sorpresa da un agguato tutto qui abbiamo un altro oggettino codice shuriken l'incantesimo consumerà l'accesso quando lo usi visita il menu di aiuto per altre informazioni quindi abbiamo un incantesimo che ci consuma un qualcosa non lo so non lo so non lo so comunque io salterei giù adesso ma là c'è qualcosa però no non ci lascia andare di là io spero di non essere arrivato da qua ma penso vedi sì sì siamo arrivati da qua continuo a sbagliare continuo a sbagliare perché siamo arrivati da qua siamo andati di là siamo saliti di sopra e qua c'era stai dietro un nemico tasto sinistra per colpire le spalle eh lo so perché una volta arrivati qua si va di sopra siamo al piano di sopra della medesima non dovevo saltare giù della medesima stanza di questa biblioteca e c'è un altro oggettino protetto da qualcuno sì da quel coso lì che io oh questo non è molto originale come mostra devo dire però l'ispirazione è chiara ho preso l'ascia dorata bella questa cosa delle armi delle armature che si possono equipaggiare è una bellissima parodia il fatto che l'abbiano già anche tradotto poi anche doppiato bene allora noi siamo qua in cima ma dove ah di là perché si sale ancora aspetta che quello lì non mi frega boia mondo che male hai rotto un po' i maroni eh ok io credo che adesso ci sia il boss sai che cosa penso penso che il mondo è malato e tu non sei che l'ultimo pixelato tu muovi quello flì il narratore giuro di salvare il mondo giuro che sarebbe intervenuto per rimuoverti mi scusi adesso io ne vengo qua e facciamo ancora no non mi ha fatto l'attacco portivo vabbè vediamo cosa succede qui contro sinistro scatta ok ok scatta all'improvviso una semplice sentinella diventa un avversario insalimentario era scritto che avrebbe distrutto l'omino stilizzato molto male perché la luce lì inquisitoria gli effetti di luce sono stupendi allora adesso vediamo di sistemarlo che nervoso perché ma ma il problema è che la visuale mi si era ancorata troppo vicino al tizio quindi non lo so ci riproviamo di nuovo carica personaggio punto ex mi viene creato con caratteri aschi quindi abbiamo perso tutte le anime e i nemici saranno sicuramente ripoppati quindi bisogna tornare là perché se è così diventa pesantina come sa per quanto io adesso sappia già dove andare quindi cercherò di non perdere tempo ma ne salta fuori uno da qui questo va in alto e mi attacca così poi ci mette sei ore a ricaricare la balestra io intervengo e ti punisco non c'è neanche una scorcia ok se forse col pad è un po' più comodo ma bene adesso cerchiamo di risalire si fa abbastanza in fretta però col mouse mi dà quella precisione necessaria per colpire un nemico di strisce colpire anche quello a fianco però questo fa molto male e soprattutto rispetto al pad riesco a muovere più rapidamente dal lato opposto quando magari non quando lo manco adesso l'altro nemico è sicuramente bello grande quindi si può anche pensare di affrontarlo senza lock qua stavo per fare un disastro allora siamo al piano di sopra bisogna 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 fare il giro di là quindi qua ce n'è uno mi copro uno due poi lo manco ma va bene due colpi aveva due armi quindi immagino facesse due colpi uno due uno due ok finiti finiti voi quanti siete lì uno due in realtà però avete un'arma in tram mi sono girato cosa che non sarebbe capitata se avessi loccato sul sul personaggio perché mi rimaneva fermo adesso sarà ancora lì immobile ad aspettarmi oppure scusi lei eh ferma ad aspettarmi o ci sarà ancora la presentazione tecnicamente dovrebbe farmi accedere velocemente cuore se infatti è ancora lì io sono morto lì recupero la mia roba ho un sacco di punti adesso scusami ma se io ti trascinassi qui nel corridoio non sarebbe più facile allora lui si incastra lì uuu che male mi fa tantissimo male adesso la tira su ok uff non era un boss ma il gioco è bastardo cosa dice qui non mollare abbiamo bisogno di te ma qua c'è una luce vediamo cosa succede qua sotto siamo avanti di là io mi curo anche se è l'ultima che ho ci sono delle scale io salgo però voglio vedere prima cosa c'è qui scheggia di tradizione ho un sacco di punti adesso allora iniziamo da questo poi questo e infine un faro un condotto tramite cui gli eroi entravano in comunione con nostalgia non osare toccarlo con i tuoi sporchi pixel vabbè io prendo quello che c'è qua prima e sega dentellata del fabbro lo prendo per noi potente impossibile tu sei tu sei il nome del vuoto cosa sei ma c'è il gesto del lumino oh non hai idea di cosa sei o del perché sei qui potevo alzare le spalle che non ho tra l'altro vuoi che sia io guidati faccio ancora il gesto dell'umino tu non sei un eroe io non sono un dépliant non ho idea di cosa tu stia cercando di dire con quei gesti certo nulla vabbè ma ciò che posso dirti è cosa sei la prova che nostalgiaia sta morendo beh riposiamo nuovo livello restituisci l'icona imposta vincolo non ho altri fari perché se ne trovo altro posso poter trasportarmi un punto solo posso spendere no si no no ne posso spendere di più faccio robustezza forza facciamo un livellino così dai questo è è lui è lui è Dark restituisci l'icona e rilascia un'icona eroica avvizzata nel mondo e per continuare la tua icona eroica personale diventerà più forte ottenendo più usi a volte puoi decidere di tornare sui tuoi passi vincolarti un faro prima di farlo dopo quando avrai finito potrai teletrasportarti al faro vincolato in questo modo potrai riprendere il cammino da lì ok imposto il vincolo faro vincolato teletrasporto via ok ok sono vincolato questo restituisci non ho eroi icone eroiche quindi praticamente si va avanti non ho guardato niente a livello di sì il nostro eroe la memoria è sacca benedizione no l'eroe aveva ricevuto un rifiuto sì vabbè adesso ragazzi ho ricaricato le piaschette ho finito anche la ho finito anche il mana il mana sì la stamina però adesso lì fa malissimo buio curati 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 c'è la classica regola del del salto che ti immunizza da tutto ok per il momento è andato salta di là mi ha fatto malissimo ma devo scatenare le mie non ho più cure ma sono morto ragazzi questo era della stile of nostalgia con questa con questo game over che si parte comunque qua vicino vi lascio e sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate di questo titolo che potrebbe essere una delle rivelazioni di quest'anno mi raccomando se vi va dato che siamo verso la fine dell'anno lasciate i like che potrebbe essere utile per aiutarmi a capire quali giochi sono piaciuti di più un saluto a tutti e al prossimo gameplay alla prossima e ciao ciao